È il 1873, da qualche mese gemito intrattiene una storia d'amore con la francese Mathilde Duffo. Lei, capelli bruni, viso ovale, fronte larga, occhie e sopracciglia neri, naso dritto, si è stabilita ad alcuni anni nella casa dell'antiquario francese Duhamel sulla collina del mogliarello a Capodimonte, una donna gentile, di nove anni più vecchia di gemito, che lo attira a sé immediatamente, tanto che lui le chiede di posare per i suoi disegni. A riguardo di questa trascinante passione, gemito racconta Non poteva più, ardeva e mi spazzava in tutti i modi per farglielo capire. Ecco la carrozza del cavaliere Duhamel, che chiedeva a fare una passicciata serale. Mathilde salutava il barcone e era solo il studio di me la facette capire, con un gesto della mano che come se ne fossi io, io sarei saluto da dove. La carrozza sparì. Tutti in uffiata, diventai scala e Mathilde era fra le mie braccia. Ma è in due o meglio. Dicati, o che avviene schicchiolò in tasso della torre alla porta, o cavaliere era tornato a rete, o torno di Mathilde, infilò il primo barcone, un serre di Persiana, ma a ferrare in chiera e me l'assi in due o vuoto. Proprio questa travolgente relazione, insieme al continuo passaggio di mercanti francesi a Napoli, è uno degli elementi che spingono gemito a recarsi nel 1877 a Parigi, città in quegli anni effervescente e sperimentale, che contribuirà a sprovincializzare la sua arte e a portarlo a contatto con i protagonisti del panorama artistico dell'epoca. Proprio lì, gemito incontra l'amico di sempre, il pittore Antonio Mancini, con cui si stabilisce in una cameretta numero 5 di Oguidogut. I due stipulano un curioso accordo, secondo il quale nessuno dei due può vendere le proprie opere senza il reciproco consenso dell'altro, ma a Parigi seguono strade differenti, mentre Mancini frequenta la casa di De Nittis, gemito stringe amicizia con Giovanni Boldini. Qui è la pompa suprema, è la metropoli delle metropoli, la reggia aperta e perpetua di Parigi, a cui tutto aspira e tutto tende. Qui la strada diventa piazza, il marciapiede diventa strada, la bottega diventa museo. Il caffè, il teatro, l'eleganza, il fasto, lo splendore, lo sfolgorio, la vita, la febbre, I cavalli passano a stormi e la folla a torrenti. Vetri, insegne, avvisi, porte, facciate, tutto si innalza, si allarga, si inargenta, si indora, si illumina. È una gara di sfarzo e di appariscenza che tocca la follia. Così descrive, mondo dei amici, l'atmosfera della Parigi degli anni 70 e dell'Ottocento. Sono anche gli anni delle mostre degli impressionisti, che stanno rivoluzionando la grammatica dell'arte moderna, ricerche che non destano l'interesse di Gemito, da sempre legato ad una visione naturalistica del reale. Molto più importante, invece, è l'amicizia con il pittore francese Herc Messonnier, che segna la permanenza parigina di Gemito. Messonnier è un artista ufficiale, che propone soggetti caricati di precisi valori morali e civili, e che traspone le sue figure dipinte in una visione quasi plastica, che le avvicina alla sensibilità classica delle sculture di Gemito. La pittura di Messonnier è inoltre caratterizzata da una certa superficialità di tocco, che Gemito ha già sperimentato durante la sua frequentazione a portici di Mariano Fortuny, pittore capace a sua volta di rendere magistralmente le mille vibrazioni luministiche. Di Messonnier, Gemito realizza una scultura che lo raffigura in piedi con la sua tavolozza, e Messonnier lo ritrae mentre intenta a comporla. Proprio nell'atelina di Messonnier, in Rue du Maleap, i due si incontravano tutti i giorni e discutevano di arte. Scrive alla famiglia qualche mese dopo il suo arrivo. Una vita dura quella parigina, ma ricca di stimoli creativi che tuttavia non cancella in lui la nostalgia di casa. Gravi sono le difficoltà economiche cui Gemito deve far fronte, tanto che Mathilde è costretto a tornare a Napoli nel 1879. Per un uomo del sud come lui, Parigi è una città fredda e inospitale. Non mi fico più e sta qua. Può clima, può fredda e ho cavo immediato. Mathilde ritorna poi nuovamente a Parigi, e questa volta versa in gravi condizioni di salute, tanto che Gemito scrive alla madre. Vannita, vannita tutta quella che tengo rummiglia, vannita tutta quella che tengo più cara. Nel 1877 avrebbe inaugurato il Salon della Società degli Artisti Francesi. Tutta l'attività parigina di Gemito, tra il 1877 e il 1878, è volta all'isposizione al Salon delle sue opere. Per lui sono molto importanti sia il pescatorello, sia il busto di Giuseppe Verdi, che espone insieme a quello di Domenico Morelli. Riguardo al pescatorello, Gemito non nasconde le sue speranze di conquistare il mercato internazionale. Se piace un Salon al Stato, è certo che conosco il mercato francese e americano. Tuttavia, la diversità delle sue opere rispetto ai caratteri dell'arte ufficiale non viene tanto facilmente accettata dai critici, disorientati dall'estremo naturalismo del pescatorello. Certo, la scultura rivela un'indiscutibile abilità tecnica e una finezza di modellazione difficilmente riscontrabile negli ambienti francesi dell'epoca. La prima e tanto attesa offerta di vendita è quella dell'americano Roseworth, che offre 30.000 lire. Ma Gemito non l'accetta perché... Sarebbe da collocare durante il periodo parigino la frequentazione del celebre scultore francese Auguste Rodin. I due potrebbero essersi conosciuti proprio al Salon del 1877, dove il francese espone la versione in gesso dell'età del bronzo e da subito nasce una certa ammirazione reciproca. Per entrambi, poi, è molto significativo il rapporto con l'antico. Qui accedono attraverso il museo, momento di formazione fondamentale, di scoperta e ritorno ad un passato che vive dentro di loro. Si appropriano gli elementi della classicità in modo personale, contaminandoli con dati naturalistici. All'inizio del 1880 a termine questo primo soggiorno parigino di Gemito, che ritorna a Napoli con la Dufo e scrive, in una lettera all'amico Luigi Fabron, delle parole emblematiche che comunicano la sua natura di uomo mediterraneo e di verace napoletano. Torno Mara.